Noleggio operativo Noleggio operativo è un servizio tipicamente molto utilizzato nelle aziende, molto utilizzato per i beni strumentali di piccole o grandi dimensioni o per i mezzi di trasporto. Il noleggio operativo è possibile anche per gli impianti fotovoltaici. Soladria vi può offrire un impianto fotovoltaico con noleggio operativo. Possono usufruire del noleggio operativo tutte le aziende o tutte le partite IVA che chiedono di non finanziare un semplice impianto o un semplice bene strumentale, ma chiedono di avere a noleggio un impianto che da subito faccia risparmiare e che non crea i loro problemi perché è già compreso di manutenzione e di tutti i controlli degli adeguamenti che possono essere necessari lungo la vita dell'impianto. Possono usufruire del noleggio operativo quelle aziende che hanno la sede all'interno di un edificio non di proprietà. Che vantaggi porta avere un impianto fotovoltaico a noleggio? Quando si parla di noleggio operativo di un impianto fotovoltaico, si parla di un noleggio di medio-lungo termine che va dai 10 anni ai 12 e che prevede alla fine del tempo di noleggio anche di una quota minima di riscatto. Il pagamento dilazionato, avere un impianto a noleggio, vuol dire studiare un pagamento mensile o trimestale dilazionato. Ci permette di avere il risparmio immediato perché c'è la possibilità di proporzionare il pagamento rateale con il risparmio programmato in bolletta. Altra caratteristica importante è l'ammortamento immediato. L'importantissimo è che alla fine del periodo di noleggio posso scegliere se tenermi l'impianto o se restituirlo. Quindi, se sei un'azienda e vuoi valutare la possibilità di noleggiare un impianto fotovoltaico, rivolgiti a Solaria. Studieremo assieme la taglia giusta e il miglior piano di rientro per le tue esigenze. Agradido per la Commission il nostro corso gratuito